Il 10 ottobre, anche quest'anno il Comune di Vigevano ha voluto aderire al progetto della psichiatria di illuminare un monumento di verde per richiamare l'attenzione dei nostri cittadini sul benessere psicofisico, la salute mentale fondamentale per il nostro benessere e questo verde richiama questa idea. Buonasera, ringraziamo il Comune di Vigevano per la sua adesione all'iniziativa voluta dalla Federazione Mondiale della Salute Mentale di cui ricorre quest'anno il 75esimo anniversario in questa giornata della salute mentale 2023, giornata mondiale della salute mentale. Lo slogan di quest'anno è la salute mentale è un diritto universale per cui noi sappiamo e sottolineiamo anche in questa occasione che non c'è salute senza salute mentale. Dobbiamo tenere presente che il disagio mentale compromette anche le nostre aspettative di vita per cui per garantire una buona aspettativa di vita e quindi occorre anche fare molta attenzione al disagio mentale. Questa iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza di Vigevano ma di tutte le città d'Italia che in questo momento stanno illuminando la facciata dei monumenti più rappresentativi delle loro città e quindi ridurre in qualche modo lo stigma e la discriminazione che c'è intorno a questo tema. Grazie a tutti.